ciao e buon secondo giorno di consiglio di risparmio allora adesso vi faccio vedere voi direte ma cosa c'è qui allora alziamo il coperchio questo è un ragù e quello che è rimasto del ragù che ho cucinato ieri perché ne ho cucinato una quantità un po industriale per condire la pasta adesso io vi faccio vedere questa voi prendetela con le pinze nel senso può essere qualsiasi tipo di pasta ecco quello che vi voglio far passare è questo ieri ho fatto dose industriale di ragù quindi ci ho condito la pasta ieri sera e oggi cosa ne farò di questo allora si può benissimo congelare e così lo potrete utilizzare per la prossima pasta di un altro pasto altrimenti io cosa faccio tolgo la pasta di mezzo e aggiungo metto questo in una padella ci aggiungo un po d'acqua poi ci aggiungo del mais dei fagioli rossi un pezzo di peperoncino e faccio so bollire un po e cosa ci condisco le piadine quindi facciamo un tipo appunto una piadina alla messicana con praticamente il chili e abbiamo con una cucina sola un pasto solo cucinato abbiamo già due ricette diverse così sono tutti accontentati anche in famiglia e a domani mi raccomando al prossimo consiglio e niente scrivetemi sotto nei commenti cosa farete voi oggi di riciclo di avanzi di cucina ciao